Ricamberlo non ce la fa più dopo una finale infinita Beh sì, diciamo che infinita l'è stata per noi, soprattutto che l'abbiamo vissuta in campo Scusa Però come abbiamo tatuato sul nostro braccio, abbiamo messo veramente il cuore Quando metti il cuore le cose fruttano anche molto bene Avete perso gara 4 in casa veramente male Siete uscite dal campo quasi sconfitte proprio nell'umore Invece come avete fatto a riprendervi qua? Beh sicuramente non abbiamo studiato una tattica per riprendersi Siamo entrate in campo, ci siamo messe tutte insieme come squadra Ci siamo divertite e abbiamo messo tutto quello che era il nostro sentimento Cioè quello di vincere Questa squadra è attrazione italiana Che cosa vuol dire vincere insieme a tante altre compagne di nazionale? Vuol dire tanto, anche perché io sono veramente contenta di aver portato questo scudetto In una squadra come Bergamo che in questi anni mi ha dato tanto E spero che me ne dia ancora Che cosa vuol dire leרג Grazie a tutti.